L'idea è nata mentre lavoravo in un negozio di ortofrutta, diciamo che da lì Dave Street è nata un'idea, un'idea di voler raccontare una storia, una lunga storia, perché sì, siamo al secondo romanzo, però ci saranno altri seguiti, i romanzi in totale saranno sette. Io ritengo che la cultura debba essere un momento per tutti, quindi non soltanto per pochi, quindi Spazio Cultura ospiterà proprio nei prossimi mesi tantissimi, giornissimi scrittori di case di treci indipendenti, come per esempio il caso oggi appunto del nostro autore. E questo è un luogo dove ognuno può proporre un'idea, un progetto, basta essere un'idea valida e noi la portiamo avanti.